Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Continuo a far discutere la tragica vicenda di qualche giorno addietro del giornalista e blogger, come è stato definito, Tatarsky, come sapete portatore di una ideologia ultra russofila e critica verso l'Occidente, è stato oggetto di un attentato a San Pietroburgo. Non è il primo, è il secondo attentato a documento di intellettuali, da che non possiamo obbliare la vicenda di Daria Dugin, la figlia del filosofo eurasiatista teorico della quarta teoria politica Alexander Dugin, fatta saltare in aria su un'auto nell'estate del 2022. In tutti e due i casi, per quel che sappiamo, è stata, almeno da Mosca, segnalata come responsabile l'Ucraina. In ogni caso sappiamo che, e questo è l'aspetto su cui richiamo la vostra attenzione, non c'è stata alcuna ondata di indignazione da parte dell'Occidente. Il fatto gravissimo, ripugnante, ignobile, che due intellettuali siano stati fatti saltare in aria in maniera direttamente terroristica, bisogna utilizzare questo termine, non ve ne sono altri, non ha generato alcuna ondata di indignazione, alcun moto di scontento e di condanna da parte dell'Occidente liberal atlantista. Anzi, a rigore, osservando le prime pagine dei quotidiani più venduti d'Italia, si nota che quasi lasciano intendere che i due soggetti, Daria Dugin e Tatarski, se la siano in qualche modo cercata. Non lo dicono apertamente, non dicono apertamente bene che ciò sia accaduto, ma lasciano intendere che hanno criticato aspramente l'Occidente, hanno usato toni forti e quindi puntando l'attenzione solo su ciò che hanno fatto criticando l'Occidente e l'Ucraina, lasciano intendere che in qualche modo se la sono cercata. Davvero curioso il regime discorsivo dell'Occidente, che condanna la violenza solo quando è la violenza subita dall'Occidente. Quando è la violenza subita dalla parte antitetica rispetto all'Occidente, appare, se non giustificabile, to cure, comunque minimizzabile come sta avvenendo ora. E questo dovrebbe dirci molto sul registro profondamente ipocrita con cui l'Occidente liberale atlantista continua a presentare molto spesso a parti invertite le cose.